Buongiorno e bentornati qua nella nostra classica. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video. Oggi finalmente una news decente, qualche giorno che escono solo cavolate su cavolate e mi stavo letteralmente preoccupando. Comunque detto questo torniamo a bomba su quello che è stato scoperto ovviamente con il datamine da parte di alcuni valorosi giocatori su Anthem. Sono trapelate notizie riguardo una miriade di armi e componenti e armature che ancora attualmente Bioware ci tiene nascoste. Ebbene anche se non ci sono dettagli in merito delle armi sono riuscito a trovare i render di queste ultime che a quanto si evince non sono solo degli upgrade delle armi mitiche. che attualmente sono così le armi leggendarie ma sono proprio delle nuove armi con delle nuove skin, armi ovviamente leggendarie. Non sono solo alcune anzi ovviamente ma intanto potete gustarvi quello che han trovato. Sono state liccate anche due nuove armor set per quanto riguarda il guardiano e lo storm. Chiaramente ce ne saranno sicuramente altre e di sicuro per intercettore colosso. Abbastanza ovvi in quanto tuttora i set di armature contengono tutti e quattro i nostri javelin. Infine e solo infine sono stati trovati nuovi componenti di supporto degli strali che vi vado ad elencare ovviamente componenti mitici. Mi scuserete per la traduzione. Allora per l'anthem grace quindi per lo storm, per lo scudo dello storm aumenterà tutti i danni del 20%. Per quanto riguarda invece il ranger cioè il ranger master point lo scudone quindi quello tondo si chiamerà tarsis la stand e oltre al danno della pistola tutti i danni sono aumentati nel 20% quando si ha all'interno del punto di raccolta. Lo slayer furor cioè l'intercettore target beacon quindi quello che si lancia per dare il 33% di resistenza in meno ai nemici. La marcatura del bersaglio segna anche altri nemici vicino a quel bersaglio quindi non sarà unico ma sarà un po' per tutti i nemici vicini e lo scudo chirurgico che è il colossus shield pulse oltre a quello che fa attualmente rigenera il 50% degli scudi per mezzo secondo quindi niente male. Chiaramente questi sono leak e non si sa quando verranno uploadati in gioco quindi non ci resta che attendere. Con questo è tutto, GG a tutti quanti. Grazie a tutti.